Ho bisogno d'aiuto per scendere. Mi mancherai, Camero. Hai sicuramente allietato la mia permanenza in carcere. Detenuto 1138. Preparati al processo. Tutto ok. Aprite la cella 2187. Te l'ho detto. Posso ancora farti uscire, ma devi darmi qualcosa in cambio. Avanti, andiamo. Posso fidarmi di te? Certamente. Fammi uscire di qui e divideremo 200 milioni di dollari di diamanti.